C'ho due case nel centro di Firenze da novembre, più di 3-4 mila al mese, semplice Incredibile, quindi in quattro mesi ti sei fatto una rendita di 12-13 mila euro al mese, l'ordi Esatto Uè Francesco, come butta, come andiamo? Ciao Luca, tutto a posto, dai, stai viaggiando, te come stai? Tutto bene, oh sei fiorentino doc? È nato e cresciuto Ah, Firenze proprio? Firenze, Firenze, davvero Firenze, beh, se ne hai nella località dove rende di più, una fortuna Eh, diciamo sì, i risultati ci sono, anche se ho iniziato da poco, comunque si prospettano molto, molto buoni Da quando hai iniziato tu? Allora, io ho iniziato relativamente da poco tempo, perché, diciamo, sono entrato in questo business da estate scorsa Mi sono poi informato, stavo facendo il mio percorso di studi, quindi ho, in realtà, ho inizialmente acquistato il corso Mi sono formato, ho iniziato con un immobile mio di proprietà, che ho messo a rendita Era assurdo, essendo in tirocinio, in quel periodo tra il tirocinio e l'immobile andavo a guadagnare più dei tecnici in azienda Quindi parecchio bene Finito, finita l'estate, finito il mio percorso di studi, ho preso la decisione di metterlo da parte Perché questo percorso rendeva troppo, sinceramente parlando E da ottobre a novembre ho iniziato con gli appuntamenti, le prime acquisizioni E ora che sono passati 3-4 mesi, sta prendendo forma, ecco, già 5 immobili, tutti messi a rendita In Toscana? In Toscana Cioè no, 4 in Piana, Firenze e uno in Umbria, che riesco tranquillamente a gestire da remoto E i prospetti sono più buoni A quanto li hai chiusi? Quanto sei riuscito a chiuderli in percentuale? 30%, 30% di commissione fissa Mediamente a quanto gli affitti a notte? Allora, a notte su Firenze, allora poi la situazione è ovviamente diversa dai mobili ai mobili Perché io ho sia delle strutture registrate, gestite come bed and breakfast Sia struri, appartamenti, case interne in affitto I bed and breakfast in realtà non pensavo andassero così tanto Ma a Firenze soprattutto, che anche se c'è un piccolo aeroporto Viaggi di lavoro ce n'è parecchi Gli ho chiusi 1000-15 nel periodo di bassa stagione a camera C'è una a 3 camera, l'altra a 4, quindi più che bene 1000-15 cioè? Nel senso che ti rende 1000-15 a camera? 1000-15 a camera, sì Non la mia percentuale ovviamente C'è un totale 1500 Tu c'hai quindi il 30 di quei 1500 Esatto, però su 3-4 camere inizia a diventare interessante il discorso Solca miseria E poi c'ho due case Nel centro di Firenze Quelle si affittano più di 200 euro a notte Tranquillamente Periodo estivo, primaverile anche Insomma entrano i prezzi ovviamente E più di 3-4 mila al mese Semplice Incredibile Quindi stai sui 12-13 mila euro al mese Lordi Esatto, esatto C'è il 30 di quelli Quindi ti riesci un 3000-3000 al mese e ti escono tuoi puliti Incredibile È fantastico Ricordiamo che ce n'hai cinque qua Cinque Sì, sono quattro a Firenze Ora quella in Umbria Ce l'ho sul lago Trasimelo Quindi c'era il mio cernellino estivo Quello Siamo già partiti con le prenotazioni Che sono già entrati Un po' di prenotazioni Quello sotto anche a marzo Da aprile Con la Pasqua I punti Stanno già entrando Quello poi Tutto da sé E poi ricordiamo Ce ne sono solo cinque Cinque sono un po' Ma non sono esagerati Cioè voglio dire Non sono esagerati per niente Esatto Tu poi Poi ti vedo Sei molto bravo in acquisizioni Poi stai a Firenze Voglio dire Cioè Firenze è Firenze Come dire Cioè il centro di Milano è diverso Perché c'è tantissima concorrenza Gli immobili sono belli Alcuni Firenze riesce veramente a lavorare A un bel mercato Cioè come il turismo fa paura Poi magari gennaio è un po' spento Ma ovviamente fai la media Quello Normale Palla media Ci sono che di peggio Cioè appunto da marzo Già 25 25 su 30 A marzo 28 su 30 Da aprile in poi Come ti sei settato Ti sei aperto una partita IVA? Mi sono aperto una partita IVA Sì Siccome un lavoro Come il property manager A percentuale Fine 2024 Dove pensi di arrivare? Io allora Essendo in Italia Sperirei Almeno il primo anno Perché il primo anno Che mi sono aperto partita IVA In realtà Di rimanere nel forfettario Ho detto proprio sinceramente Difficile Vedendo Vedendo le cifre Che stanno arrivando Nell'arco di 3-4 mesi Sono già più di metà strada Quindi Un pochino Difficile Ma perché ti devi Ti devi offuscare Voglio dire Passi al regime ordinario Ovviamente Ti fai una società al massimo Da quando sfori Il tempo successivo È Criare una società E Fatturare con quello L'unico è poi Quando superi Solo al pelo Per la società Lì ne devi prendere tanti Perché lì devi iniziare A far volume Per Anche i costi Delle SRL Eccetera Eccetera Conviene Insomma Partire forte Ma sai a Firenze In 4 mesi 4 mesi In circa Ne hai presi 5 4 mesi Da novembre Quindi 4 mesi Ti sei fatto una rendita Di 3.500 L'orda tua Sì che poi Non me l'aspettavo Neanche in realtà Cioè Sapevo Conosco persone Che in realtà Già c'erano In questo In questo settore Non pensavo così tanto Perché poi Persone anche loro Con magari Una casa Che prendi L'affitti L'affitti anche Cioè Non bene Non Non la sfrutti al massimo Ci fai 1.000 1.500 Euro al mese Ci paghi Le bollette La spesa Poca roba Per quello che può dare È veramente poca roba Eh sì Cioè Short term Fai tanto L'Italia Il turismo Poi Firenze A mio avviso Non c'ha paragoni Perché proprio Cioè Spinge veramente forte Forse Forse Venezia Non lo so Tra le big italiane Sì anche Venezia Anche se è più complessa Venezia La barca Devi prendere Dove Anche a livello Logistico Diventa un po' Più complesso Firenze Taxi Auto Cioè Veramente Va spedito Come la località Mi piace E senti Che mano Quanto ti ha aiutato Leandro Dentro Monopolio Immobiliare Leandro Una presenza fissa Posso essere Veramente una presenza fissa Sia per quanto riguarda I contratti Sia per quanto riguarda I consigli I contatti anche Perché mi ha messo in contatto Con Con altri ragazzi Che Anche loro Erano già presenti All'interno di Monopolio Immobiliare Con cui abbiamo stretto collaborazioni Sempre sul Firenze Ora ce n'è parte Ce n'è partita una settimana scorsa Forse ne parte due Tre Chi lo sa Vediamo Però ecco No Leandro Spinge Non saprei come ringraziarlo Però spinge veramente tanto È sempre presente E sempre disponibilissimo Per qualsiasi domanda E tu il corso Quando l'hai comprato? Dicembre? Io il corso no L'ho preso L'ho preso a giugno Dell'anno scorso Perché appunto avevo Quella casa Di proprietà Ok Prima di lanciarla Mi voglio informare Perché non voglio Anche perché essendo in un È la casa in un bravesta Da autodidatta È un po' difficile Anche da remoto Ho preso il corso E non sono lì dentro Vabbè non sto nemmeno a dirle Cioè quante sono Di quantità e qualità Quindi l'ho preso a giugno Periodo anche Come ti ho già detto prima Il mio percorso di studi Di roscini Certo Un pochino Con tutto molto concentrato Dal novembre Ho preso una decisione Mi sono messo sotto Semplicemente Non è facile Perché fosse facile Lo farebbero tutti Non c'è da lavorare Però i risultati arrivano Eh certo Beh ovvio Con il duro lavoro Ci hai messo alla fine Quattro mesi Cioè incredibile Assurdo Sì Relativamente poco E quanto hai speso Per fare queste acquisizioni Zero La sim Tutto in gestione Quindi Zero investimento iniziale Gli hai chiusi anche alti Veramente top Immagino sia Abbastanza alto Tra il 20 e il 40 40 Alto Ancora più alto Molto alto 30% però Arrivano bei soldi A fine mese Eh sì Boh mi ha fatto veramente piacere Francesco Ho raccolto questa prima testimonianza Perché magari ci poniamo un obiettivo Fine 2024 E ci risentiamo a fine 2024 E vediamo quanti ce n'hai Più che volentieri Ne vogliamo 20 noi Ne vogliamo 20 20.000 Cioè fa nel più possibile Poi Firenze Tu sei proprio È una fortuna stare lì Perché comunque Firenze È un mercato florido Turismo 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 No vedo poi anche Intorno a Firenze La campagna fiorentina Mamma mia C'è tanto movimento Anche nelle campagne Anche semplicemente a Fiesole Dieci minuti da Firenze Eh sì c'è anche in Pruneta Ad esempio Vabbè poi Chianti Cioè c'hai veramente Lo spettacolo Lo spettacolo divino Va bene dai Ci risentiamo allora Fra qualche mese Francesco Luca io ti ringrazio E di che? Mi piace anche Conoscerti Leandro Penso che ci parli tutti i giorni Eh sì Ormai lo sento più Della mia famiglia Da poco Va benissimo Ottimo Ottimo Dai ci ha fatto veramente piacere Buon lavoro Francesco A te